ciao a tutti torna dalla keymaster prova a raggiungere i 2329 ovviamente a fronte 4 con la sua adorata pierce nostro avversario 2347 non è poco eh non è poco comunque cerchiamo di fare del nostro meglio non pensiamo tanto al rating dell'avversario quanto piuttosto a quello che accade sulla scacchiera qui il bianco come di consueto piazza alfiere donna per sfianchettare attraverso alfiere h6 e poi spingere il pedone h per aprire la colonna h qui abbiamo visto che all'arrocco del bianco sul lato di donna il piano più opportuno è quello di aprire il gioco verso il lato di donna e verso il centro prima possibilità è attaccare con b5 attraverso b5 poi b4 il cavallo c3 e quindi premere su e4 si continua a premere su e4 e qui si preme anche su b4 si cerca di di non dare il tempo al bianco di continuare con il suo piano attraverso la spinta del pedone h qui vediamo come siano da sviluppare i pezzi del lato di donna è un errore tipico quello di trascurare lo sviluppo dei pezzi e quindi dopo aver premuto su d4 andremo a sviluppare il nostro cavallo a seconda dei casi in c6 o in d7 e poi sviluppare anche la nostra torre in a8 ad esempio in c8 e poi proseguire con lo sviluppo della donna in una di queste tre case e poi far giocare anche la torre f8 quattro pezzi quattro mosse vediamo se riusciamo in questo intento qui il bianco dopo una serie di mosse veloci in apertura si sta prendendo adesso il suo tempo punta all'apertura del centro d per e5 d per e5 cavallo e4 scusate cavallo d5 ma in realtà d per di per ma qui cambiamo e va bene qui mi aspetto un pedone d per e5 e va bene e qui possiamo giocare una mossa come cavallo d5 si è aperta la colonna d il nero minaccia in alcune varianti di giocare donna g5 con idea cavallo h4 e cavallo g5 scacco su donna g5 potrebbe esserci anche e6 si minaccia un cambio di cavalli in c3 in alcune linee si minaccia anche alfiere e4 attaccando tre volte il cavallo d5 però anche qui con e6 il cavallo nero sarebbe sufficientemente difeso sinceramente non so quale potrebbe essere qui la scelta del nostro avversario andiamo a fare l'analisi mentre il nostro avversario riflette sul piano da portare avanti delle mosse potenziali la prima è arrocco corto la seconda è arrocco lungo la terza è cavallo d5 la quarta è alfiere e4 sull'arrocco corto possiamo bloccare una mossa come ok questo è interessante qui andiamo a difendere intanto il cavallo qui adesso mi aspetto un arrocco lungo e si continua a premere sul cavallo d5 che sarebbe attaccato da 4 e difeso solo da tre cascherebbe un pedone però ci sarebbe un certo contro gioco legato all'avanzata del pedone b4 che avrebbe anche come appiglio eccolo lì il pedone in a3 quindi scambio prendo prende prendo e donna a5 ah però su una serie di cambi qui secondo me il dado è tratto abbiamo a che fare con un 2347 che sta premendo contro il nostro cavallo in d5 ah è qui sì sì ok riprendiamo di pedone mi aspetto un alfiere per d5 a cui potrebbe seguire cavallo c6 però su cavallo c6 alfiere per c6 non ci siamo su alfiere d5 allora potremmo giocare beh anche donna a5 donna a5 non sarebbe male in caso di alfiere per e4 perché si minaccia il matto in una qui la situazione si fa veramente interessante il nero deve ancora sviluppare il lato di donna c'è anche da dire che però il re si trova in una posizione precaria come sfruttare la posizione precaria del nostro avversario del re del nostro avversario la prima possibilità che mi viene in mente è donna a5 con idea donna a1 matto e fin qui ci siamo qui in qualche modo adesso il bianco dovrà difendersi ad esempio con re b1 però in quel caso potrebbe seguire torre d8 attaccando l'alfiere che è inchiodato alla donna e qui la situazione potrebbe ribaltarsi perché in d5 prima avevamo un pezzo nero che poi è stato catturato e che ha comportato anche un pedone di sacrificio d'altro canto adesso abbiamo un pezzo bianco in d5 che rischia di essere obiettivo di attacco dell'alfiere e anche della torre nemica cerchiamo di capire come il nero come il bianco può difendersi la prima è re b1 su re b1 potrebbe seguire torre d8 su torre d8 non so come quell'alfiere potrebbe salvarsi la seconda è ad esempio donna f4 in alcune varianze ok ho giocato re b1 re b1 funziona la mossa torre d8 torre d8 secondo me funziona non vorrei sbagliarmi adesso ho attaccato tre volte quest'alfiere abbiamo l'alfiere in b7 la torre d8 e anche la donna in a5 è difeso da donna e torre il problema è che la torre inchioda l'alfiere sulla donna eccola qua il re è in g7 casa scura fosse in g8 potrebbe seguire alfiere per f7 e il bianco si rifà sulla torre d8 ma il re è su casa scura su alfiere per b7 seguirebbe torre per d2 e se alfiere per a8 torre per d1 torre per d1 e di fatto il nero avrebbe dato torre e alfiere eccola la torre alfiere per la regina bianca questo è il seguito più naturale dopo alfiere per b7 fossi stato il bianco sinceramente avrei optato per alfiere per torre a8 invece il bianco giocando subito torre per d2 dà l'opportunità al nero di giocare una mossa come torre a7 e va si attacca l'alfiere e finalmente si dà la possibilità alla torre del lato di donna di entrare in azione qui adesso non abbiamo più torre alfiere per la donna ma abbiamo direttamente cavallo e cavallo torre e torre no abbiamo da la nostra donna contro una torre e l'alfiere i pedoni del bianco sono 6 quelli del nero sono 5 alla fin fine il materiale non dico che pari ma poco ci manca qui giochiamo torre d7 con idea di cambiare eventualmente in d7 col cavallo e farlo entrare in gioco un'altra possibilità è la più naturale il bianco che gioca sviluppando la torre del lato di re torre h d1 eccola lì e anche qui cambiamo subito qui mi sembra interessante qui dobbiamo sviluppare assolutamente questo cavallo il problema è che la casa d7 è controllata dalla torre e la casa c6 è controllata dall'alfiere quindi per fare entrare in gioco questo pezzo dobbiamo comunque sia dare un sostegno attraverso la donna il sostegno potrebbe essere dato da donna b6 cavallo b6 sarebbe un grave errore perché seguirebbe torre b6 infiodando il cavallo ok qui avremmo cavallo d7 alfiere per f7 però adesso che l'alfiere in d5 noi non abbiamo più il problema di torre d6 e quindi potremmo fare entrare in gioco il cavallo attraverso la casa c6 importante notare la questione tempo 4 e 40 per laki master contro un minuto e 12 per il nostro avversario ricordiamo un 2347 qui il nostro avversario punta ad aprire il gioco e qui su e6 mi sembra praticamente forzato mi sembra praticamente forzata la ripresa ora qui donna c7 sarebbe un grave errore ok però dobbiamo fare attenzione che torre d7 re f6 ok scricchiola quell'alfiere però cominciamo eventualmente ad attaccare l'alfiere attivando il nostro re adesso la minaccia è torre d6 in alcune varianti alfiere d4 inchiodando qui una possibilità potrebbe essere ad esempio questa potrebbe non essere male cavallo a5 l'idea di cavallo a5 è controllare queste tre case ma anche in alcune varianti giocare cavallo c4 h5 ok qui c'è una forte base d'appoggio per il nostro avversario che con cavallo g5 potrebbe puntare a delle minacce di matto contro gioco b3 apriamo qualche linea contro il re nemico qui il nostro re oggettivamente non è in una posizione comoda bisogna fare attenzione all'attacco dei pezzi del bianco sostenuti anche dal pedone h4 c'è anche da dire che pure la posizione del re bianco comincia un po' a scrittiolare una possibilità potrebbe essere diamogli da pensare l'idea di donna b4 è continuare a controllare queste due case con la donna ma anche in alcune varianti dare scacco attraverso d1 al momento lo scacco attraverso d1 non sarebbe particolarmente efficace e quindi proviamo un cavallo b3 ok qui bisogna fare attenzione su cavallo c5 torre per c5 donna e cavallo scacco col doppio e si perde ah qui si attacca anche il cavallo tra l'altro eh su cavallo d2 cavallo e4 però ci sarebbe la torre difesa dall'alfiere scacco che guaio diamo scacco diamo scacco eh non è scacco scusate 31 secondi per dalachima per il nostro avversario 48 per dalachimaster posizione tesissima premubi in caso di cavallo scacco cavallo per scacco ok attacchiamo l'alfiere nemico 43 contro 16 forse forse ce la facciamo qui uno scacco lo diamo e anche volentieri continuiamo a dare scacco continuiamo a dare scacco e salta la torre e dalachimaster vince più 7 e si vola verso i 2336 non male siamo a circa un terzo della scalata tra i 2003 e i 2004 anche qui la Pirza ha fatto il suo dovere il nero ha un po' tralasciato lo sviluppo del lato di donna e il cavallo in d5 se l'è vista un po' brutta c'è anche da dire che il bianco puntando all'attacco diretto del pezzo in d5 per guadagnare poi un pedone ha ceduto terreno sul lato di donna e da lì l'iniziativa del nero si è fatta sempre più corposa fino a quando il bianco si è visto costretto ad entrare in una variante in cui dava la sua donna per torre alfiere pedone che come materiale tutto sommato non è male però le peculiarità della posizione hanno fatto sì che alla lunga delachimaster che è tornato anche a giocare bullet di un certo livello hanno fatto sì che si ritrovasse contro un 2347 con 35 secondi contro 0 in una posizione vinta perché c'è lo scacco al re e l'attacco anche alla donna faccio notare che la donna sarebbe andata in casa chiara il re su casa scura e quindi doppi di cavallo non ce ne sarebbero comunque stati spero che la partita vi sia piaciuta se si mettete un like iscrivetevi al canale attivate la campanellina spargete la voce tra i vostri contatti e che dire è stato un piacere e alla prossima tanti saluti da Dallachimaster grazie